Ciao a tutti, oggi prepareremo i tortini al crumble di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero di canna, burro, vanillina, mele, limone, zucchero sepolato e cannella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele che abbiamo tagliato a cubetti e abbiamo irrorato con il succo di limone. Aggiungiamo lo zucchero e il burro. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 6 minuti, 80 gradi, anti-orario, velocità 2. Aggiungiamo la cannella e azioniamo il bimbi per 20 secondi, anti-orario, velocità 3. Mettiamo il composto da parte e laviamo e asciughiamo il boccale. Dopo aver lavate e asciugato il boccale mettiamo all'interno del boccale lo zucchero di canna. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, il burro, e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. La nostra frolla è pronta, componiamo i nostri tortini. Abbiamo imburrato dei pirottini di ceramica, adesso metteremo sul fondo le mele. Ricopriamo con la frolla sbriciolata. cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa, la superficie dovrà risultare dorata. i tortini sono cotti, serviamoli. Tortini al crumble di mele. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!